Mentre nella casa del grande fratello Vippe, Edoardo Tavassi e Nicole Incorvaia diventano sempre più complici, fuori dalle mura di Cinecittà, le rispettive sorelle sognano in grande. Il video che fa sognare anche i fan degli Incorvassi, questo il nome scelto per la coppia dai sostenitori di Twitter, arriva direttamente da Gwyndalina Tavassi, che su Instagram si riprende insieme a Krizia Incorvaia, definendola la sua futura cognata. Ironiche ma neanche troppo, entrambe non hanno mai nascosto la loro passione per la relazione che sta nascendo tra Nicole e Edoardo. A grande richiesta, la mia futura cognata! Krizia, allora qui riclamano una diretta. Quando la facciamo? Facciamo la prossima puntata, quando è la prossima del Gep? Ma fanno sabato, è Natale. Ah, è Natale!